Annabeth. Non riuscirono a raggiungere la nave. Quando le ragazze arrivarono a metà del molo, tre aquile giganti atterrarono di fronte a loro, sbarrando la strada. Ciascuna depositò un soldato romano, con la maglietta viola e i jeans, sotto l'armatura d'oro scintillante, completa di spada e scudo. Le aquile volarono via e il soldato al centro, il più magro, sollevò la visiera dell'elmo. Era Ottaviano. «Arrendetevi a Roma!» strillò. Ese le strasse la spada da cavalleria e ringhiò. «Scordatelo!» Annabeth imprecò tra i denti. Da solo, quello stecchino di un augure non sarebbe stato un problema. Ma gli altri due sembravano guerrieri esperti, molto più grossi e più forti di quanto fosse disposta ad affrontare, soprattutto considerato che lei e Piper erano armate solo di pugnali. La figlia di Afrodite alzò le mani in un gesto pacificatore. «Ottaviano, quello che è successo al campo è stato un inganno! Possiamo spiegare!» «Non ti sentiamo!» urlò l'augure. «Ne abbiamo la cera nelle orecchie! Procedura standard contro le sirene! Ora gettate le armi e voltatevi lentamente, così potrò legarvi le mani!» «Lasciatemelo infilzare!» murmurò Hazel. «Vi prego!» La nave era solo a una quindicina di metri di distanza, ma Annabeth non vide traccia di hedge sul ponte. Probabilmente era sotto coperta a guardare i suoi stupidi programmi di arti marziali. Il ritorno del gruppo di Jason non era previsto prima del tramonto e Percy era sicuramente sott'acqua, ignaro dell'invasione. Se lei fosse riuscita a salire a bordo avrebbe potuto usare le baliste, ma era impossibile aggirare quei tre. Il tempo stava scadendo. Le aquile volavano sopra le teste, mandando forti strida per avvertire le sorelle «Ehi, ci sono dei gustosi bocconcini greci da queste parti!» Annabeth non riusciva più a scorgere la biga volante, ma doveva essere vicina. Bisognava escogitare qualcosa prima che arrivassero altri romani. Le serviva aiuto. Ci voleva un segnale d'allarme per il satiro, o meglio ancora, per Percy. «Allora?» domandò Taviano. I suoi due amici brandirono le spade. Molto lentamente, usando solo due dita, Annabeth estrasse il pugnale. Anziché gettarlo a terra però, lo lanciò in acqua il più lontano possibile. «Perché l'hai fatto?» sbottò Taviano. «Non ti avevo detto di lanciarlo! Poteva essere una prova!» «O parte del bottino di guerra!» Annabeth fece la sua migliore imitazione della biondina svampita, sorridendo con un'espressione scema, come per dire «Oh, che sciocca!» Nessuno che la conoscesse davvero ci sarebbe mai cascato, ma Taviano se la beve. Sbuffò esasperato. «Voi altre due!» puntò la lama verso Hazel Piper. «Posate le vostre armi sul ponte!» «Niente scher...» Tutti intorno ai Romani, il porto di Charleston eruppe come una fontana di Las Vegas durante uno spettacolo. Quando la parete d'acqua salata si ritrasse, i tre Romani erano nella baia, sputtacchiando e cercando disperatamente di restare a galla nonostante le armature. Percy era in piedi sul molo, con il pugnale di Annabeth in mano. «Ti è caduto questo?» disse, sorridendo. Annabeth gli lanciò le braccia al collo. «Ti amo!» «Ragazzi!» l'interruppe Hazel. «Dobbiamo sbrigarci!» Giù nell'acqua, Ottaviano gridava «Tiratemi fuori di qui! Ti ammazzerò!» «Mi stai tentando!» replicò Percy. «Quasi, quasi...» «Cosa?» urlò l'augore. Si stava aggrappando a una delle guardie, che faticava molto a tenere entrambi a galla. «Niente!» Percy scosse la testa. «Andiamo, ragazze!» Hazel si accigliò. «Non possiamo mica lasciarli affogare!» «Non affogheranno!» promise Percy. «Ho ordinato all'acqua di sostenerli dal basso. Non appena saremo fuori portata, li farò sputare a riva!» Piper sorrise. «Che carino!» Salirono a bordo del largo due e Annabeth corse al timone. «Piper, tu vai di sotto! Usa il lavello della cucina per mandare un messaggio iride! Via Jason di tornare!» Piper annui e corse via. «Hazel, tu trova il coach e digli di portare le sue zampacce pelose sul ponte!» «Subito!» «E Percy, io e te dobbiamo condurre questa nave a Fort Samter!» Il figlio di Poseidone annui e corse all'albero maestro. Annabeth prese il timone. Le sue mani volarono sopra i comandi. Spero solo di saperne abbastanza per farli funzionare. Aveva già visto Percy controllare imbarcazioni con la sola forza di volontà. E neppure stavolta le deluse. Le cime si mossero da sole, liberando gli ormeggi e levando l'ancora. Le vele si spiegarono e presero il vento. Nel frattempo Annabeth azionava i motori. I remi si allungarono con un fracasso da mitragliatrice e l'argodue si staccò dal molo, dirigendosi verso l'isola. Le tre aquile volavano ancora in cerchio sopra di loro, ma non tentarono di posarsi sulla nave, probabilmente perché Festus sputava fuoco ogni volta che si avvicinavano. Altre aquile volavano in formazione verso il forte, però, almeno una dozzina. E se ognuna di loro trasportava un semidio romano... beh, il totale era un sacco di nemici. Edge arrivò con Hazel, pestando gli zoccoli sul ponte. «Dove sono? Chi ammazzo per primo?» «Non uccidiamo nessuno!» ordinò Annabeth. «Difendiamo la nave e basta!» «Ma hanno appena interrotto un film di Chuck Norris!» Piper emerse da sotto coperta. Messaggio inviato e ricevuto. La scena era un po' confusa, ma stanno arrivando. Jason dovrebbe essere... «Guardate, laggiù!» Sopra la città, diretta verso di loro, volava una gigantesca aquila, diversa da quelle dorate romane. «Frank!» esclamò Hazel. Leo si teneva aggrappato alle zampe dell'aquila e, perfino da lontano, Annabeth lo sentiva gridare ben precare. Dietro di loro c'era Jason, che cavalcava il vento. «Non l'avevo mai visto volare!» Brontolò Percy. «Sembra una specie di Superman in versione bionda!» «Non è il momento!» Lo rimproverò Annabeth. «Guarda solo nei guai!» La biga volante dei romani era appena spuntata da dietro una nuvola e scendeva impicchiata verso di loro. Jason e Frank sterzarono verso l'alto per non farsi calpestare dai Pegasi. I romani armarono gli archi e scaglierono le frecce, che fischiarono sotto i piedi di Leo, accompagnati da un'altra pioggia di grida e impregazioni. Jason e Frank furono costretti a oltrepassare l'argodue e puntare verso il forte. «Ci penso io!» urlò Hedge, ruotando la balista di babordo. Prima che Annabeth potesse strillare «Non faccialo stupido!» o qualcosa del genere, Hedge azionò l'arma. Una lancia infuocata sfrecciò come un razzo verso la biga, esplose sopra la testa dei Pegasi e li gettò nel panico. Purtroppo incendiò anche le estremità delle ali di Frank, che perse il controllo. Leo scivolò via dalla sua presa. La biga proseguì la sua folle corsa verso il forte, investendo Jason in pieno. Sotto lo sguardo inorridito di Annabeth, Jason, palesemente stordito e forse ferito, si tuffò a recuperare Leo, lo afferrò e poi cercò affannosamente di riprendere quota. Ma riuscì solo a rallentare la caduta. I due ragazzi scomparvero dietro i bastioni del forte. Frank precipitò dietro di loro. Poi la biga cadde da qualche parte all'interno delle mura e atterrò con un fracasso assordante. Una ruota spezzata schizzò verso il cielo. «Coach!» urlò Piper. «Che c'è?» domandò il satiro. «Ma era solo un colpo di avvertimento!» Annabeth lanciò i motori al massimo. Lo scafo vibrò e presero velocità. I moli dell'isola erano solo a poche centinaia di metri di distanza, ma un'altra dozzina di acqui le era comparsa, ciascuna con un semidio romano tra gli artigli. L'equipaggio del Largo 2 sarebbe stato in netta inferiorità numerica. Tre avversari a testa per ognuno di loro. «Persi, l'atterraggio non sarà morbido», disse Annabeth. «Ti chiedo di controllare l'acqua per impedirci di fracassarci sul molo. Una volta arrivati dovrai trattenere il nemico. Coach, Piper, Hazel! Voi aiuterete Persi a proteggere la nave!» «Ma Jason!» protestò Piper. «Frank e Leo!» aggiunse Hazel. «Li troverò», promise Annabeth. «Devo scoprire dove si trova quella mappa. E sono sicura di essere l'unica in grado di riuscirci». «Il forte pullula di Romani», la mise in guardia Persi. «Dovrei farti largo a fil di spada, trovare i nostri amici, ammesso che stiano bene, trovare questa mappa e riportare tutti qui sani e salvi. E vuoi fare tutto questo da sola? Una giornata come tante!» Annabeth lo baciò. «Fa quello che vuoi, ma non permettergli di impadronirsi della nave!»